Lutto italiano per la famosa artista del web. Restate a guardare il video per sapere cosa è successo. Benvenuti su Quotidiano Notizie, il canale che offre gratuitamente notizie sempre aggiornate. Iscrivetevi e attivate la campanella. La notizia giunge con grande tristezza. La famosa personalità del web ci ha lasciato ieri sera all'età di soli 53 anni a causa di una grave forma di meningite che l'ha colpita. La sua scomparsa è avvenuta mentre era ricoverata presso l'ospedale di Avezzano, dove i medici avevano precedentemente avviato le procedure necessarie per dichiararne la morte cerebrale. Oltre ad essere un artista e un architetta di grande talento, era nota per la sua straordinaria sensibilità e il suo forte senso civico. Con oltre 83.000 seguaci su Instagram, aveva una nutrita cerchia di ammiratori che apprezzavano la sua arte e il suo impegno. Il cuore spezzato di chiunque avesse conosciuto Ilaria Fabiocchi riflette la perdita di una donna dal cuore gentile e dalla grande umanità. Fin dalla giovinezza, Ilaria aveva coltivato la sua passione per l'arte, trasformando le sue emozioni in opere d'arte, tra quadri e fotografie. Era riuscita persino a organizzare mostre ed esposizioni culturali, dimostrando il suo amore e la sua dedizione all'arte in tutte le sue sfaccettature. La sua eredità artistica e il suo spirito sensibile continueranno a vivere nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata. Lasciate un commento di un vostro pensiero per Ilaria, un mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su quello che succede. Grazie a tutti.